Gargantois e Pantagruele, libro primo, capitolo trentaseiesimo. Come qualmente Gargantois demolì il castello del guado della Ved e come il guado fu passato. Giunto Ginnasta discrisse come aveva trovato i nemici e lo stratagemmo usato, lui solo contro tutta la loro caterva e affermò che erano nient'altro che bricconi, predoni e briganti, ignoranti dell'arte militare e che arditamente si mettessero in marcia che sarebbe stato loro assai facile ammazzarli come bestie. Montò dunque Gargantois sulla sua grande giumenta, accompagnato come di anzi abbiamo detto, e incontrando per la strada un alto e grosso ontano, chiamato comunemente l'albero di San Martino perché si credeva cresciuto da un bordone piantatovi già da San Martino, disse, ecco ciò che mi occorre, questo albero mi servirà di bordone di lancia, e lo svelse facilmente da terra, ne sfrondò i rami e lo accomodò a suo piacere. Intanto la giumenta pisciò a sollievo del ventre, ma con tale abbondanza che ne fece sette leghe di diluvio. La pisciata defluendo al guado della Ved tanto gonfiò la corrente che tutta quella banda di nemici furono annegati molto orrendamente, eccetto alcuni che avevano preso il sentiero verso le colline a sinistra. Gargantua, giunto all'altezza del bosco della Ved, fu avvisato da Eudemone che alcuni nemici erano rimasti dentro il castello. Per accertarsene Gargantua gridò, ci siete o non ci siete? Se ci siete non ci siate più, se non ci siete non ho altro da dire. Ma un ribaldo cannoniere che stava alle feritoie gli sparò una cannonata e lo colse alla tempia destra furiosamente. Tuttavia non gli fece più male che se gli avessero tirato una prugna. Che, disse Gargantua, ci gettate dei chicchi d'uva? La vendemmia vi costerà cara. E pensava davvero che si trattasse di un acino d'uva. Quelli che erano dentro il castello, distratti a saccheggiare, sentendo il rumore, accorsero alle torri e fortezze e gli spararono più di nove mila e venticinque colpi di falconetto e archibugio, mirando tutti alla testa, e sparavano così fitto contro lui che egli gridò. Ponocrate, amico mio, queste mosche mi accecano. Datemi un ramo di quei salici da scacciarle via. Eran palle di piombo e pietre d'artiglieria ed egli pensava che fossero mosche bovine. Ponocrate l'avvertì che non si trattava di mosche ma di colpi di artiglieria sparati dal castello. Allora egli percosse del suo grosso albero contro il castello e a gran colpi abbatté torri e fortezze e ridusse tutto in rovina, onde furono morti e messi a pezzi quelli che vi erano dentro. Partiti di là arrivarono al ponte del mulino e trovarono tutto il guado talmente coperto e affollato di cadaveri che ne era ingorgato il corso del mulino. Erano quelli periti nel diluvio urinale della giumenta. La stettero sopra pensiero domandandosi come avrebbero potuto passare dato l'impedimento di quei cadaveri. Ma Ginnasta disse, se vi son passati i diavoli vi passerò benissimo anch'io. I diavoli, disse Eudemone, vi son passati per portar via le anime dannate. Per Santregnano, disse Ponocrate, e dunque per conseguenza necessaria vi passerà anche lui. Giusto, giusto, disse Ginnasta, se no resterò per istrada. E dato di sprone al cavallo, passò oltre francamente senza che mai il cavallo si spaurisse dei corpi morti. Infatti l'aveva accostumato, secondo l'insegnamento di Eliano, a non spaventarsi né delle armi né dei corpi morti. Non uccidendo uomini come Diomede che uccideva i traci e Ulisse che metteva i corpi dei nemici ai piedi dei suoi cavalli, secondo raccontò Mero, ma mettendogli un fantoccio tra mezzo il fieno o facendovelo passar su quando gli dava la vena. I tre altri lo seguirono senza inconvenienti, eccetto Eudemone, il cui cavallo affondò il piedi ritto fino al ginocchio, nel ventre di un grosso e grasso villano, annegato là a pancia all'aria, né poteva districarsi. E rimase così impantanato finché Gargantua con la punta del bastone affondò nell'acqua il resto delle trippe del villano mentre il cavallo alzava il piede. E, ciò che è mirabile in ipiatria, il detto cavallo fu guarito da un tumore che aveva nel piede, grazie all'unzione delle budella di quel grosso briccone. Ti è piaciuto il video? Allora metti like, sostieni il canale, è sufficiente un semplice like. Vuoi farmi sapere cosa ne pensi? Lascia un commento, ti risponderò. Anche questo può aiutare il canale. E se ti è piaciuto questo audiolibro, iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella. Grazie!